bentornati a una voce per san marino al concorso organizzato da media evolution in collaborazione con san marino rtv la segreteria di stato per il turismo la cooperazione poste expo siamo al san marino outlet experience in questa fantastica cornice oltre ad augurarvi buone feste vi invitiamo a guardarci ogni giorno dal lunedì al venerdì con delle pillole quotidiane qua proprio alle audizioni direi di partire con la puntata allora sigla allora sono denise bertozzi in arte chida vengo proprio qua da san marino quindi siamo molto patriottici e ironessa qualcosa e ho cantato spegnere e 7 years che sono una mia canzone leggera ma canzone d'amore e invece 7 years con qualche dolore ho trovato una macchina per portarmi via da te anche se te ne devi andare io non scapperò perché mi è bastato uno sguardo per capirti fino in fondo e per rendermene conto voglio stare con te amarti tutta la notte tanto chi se ne fotte del resto spegnere andare via godiamoci un tramonto prima che cada al mondo non è una follia se amo solo te dimmi che male c'è e sai sono due anni che aspetto una risposta ad ogni mio sguardo e vorrei solo camminare scalza arriva al mare capire che non è mica la fine se con te voglio respirare fino a che non sorge il sole e facciamo uno sbaglio troppo breve il viaggio per pentirsene voglio stare con te amarti tutta la notte tanto chi se ne fotte del resto spegnere andare via godiamoci un tramonto prima che cada al mondo non è una follia se amo solo te dimmi che male c'è male non ce n'è sto pensando ancora a te e a tutte quelle impronte che mi hai impresso dentro in quel lontano giorno di novembre ed è stupido perché in fondo non ha senso se mi capisci solo per un momento come esperienza penso sia veramente formativa soprattutto per chi è giovane come me perché ho 17 anni quindi qualsiasi palco da prendere è da prendere subito e visto che ne avevo la possibilità ho volentieri rifatto la richiesta che emozioni hai provato salendo sul palco oggi oggi pensavo di stare di calma invece l'ansietto è salita però sto imparando a gestire anche quella quindi ero più che altro felice di essere qua e di essermi ripresentata sostanzialmente ci tieni a ringraziare o salutare qualcuno? ma ringrazio i miei che mi hanno fatto essere qua e mi hanno sostenuto tanto ma soprattutto anche il mio team ciao a tutti voi di una voce per San Marino e grazie per continuare a mantenere in vita questa esperienza allora è stato sicuramente bellissimo all'inizio l'emozione ovviamente ti porta ad avere più agitazione però ho cercato di direzionarla verso quello che mi avevo detto anche prima di entrare cioè volevo divertirmi volevo dare il massimo quindi mi sono divertita tanto e ho cercato di dare il massimo che potevo in quel momento no mi devi guardare lì dai vai siamo al San Marino Outlet Experience continuano le audizioni a una voce per San Marino abbiamo anche la fortuna di incontrare volti che ci terranno compagnia durante le semifinali di una voce per San Marino sono qui con Camilla Spinelli come stai? sono molto emozionata ma davvero è una fortuna avermi qua secondo te? una super fortuna fidati è meglio avere te che hero qua vai tranquilla volevo chiederti che clima vedi qua all'Outlet il livello dei cantanti? sono tutti molto emozionati non vedo l'ora di vedere che cosa daranno i concorrenti sul palco secondo me il livello è altissimo quest'anno Camilla avrete la fortuna di rivederla durante i semifinali presenterà insieme a... Ilenia che è una collega che io stimo tantissimo infatti non vedo l'ora di collaborare con lei la saluto e le mando un bacione Ilenia ci vediamo prestissimo ciao siamo qua qual è il clima? benissimo bello siamo emozionate anche noi anche l'Anna Chiara in particolar modo arriva da Bologna dili Anna Chiara Anna Chiara io sono innamorato di questo ragazzo poverino beh è talmente innamorato no è talmente innamorato che la prima volta mi ha chiamato Anna Maria nooo non è vero poi andrei su più su del sole attraverso le nuvole chiare e le nuvole scure da lì un orizzonte in più provo a chiamarti sei tu senza paracadute salterei giù senza paracadute salterei giù faccio un maratone sul divano finisco le unghie di una mano gli unici occhi per me sono sigarette e caffè si tutto questo solo per te 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 e questa puntata di una voce per San Marino Audition termina qua vi ricordiamo di seguirci da lunedì al venerdì con queste pillole quotidiane alle ore 19 ciao a tutti dal vostro e roll e dal San Marino Outlet Experience grazie 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 a tutti.